Il Tribunale di Caltanissetta della sezione penale ha assolto dall'accusa di occupazione abusiva di un alloggio popolare un agente di commercio nisseno, sessantenne, perché il fatto non sussiste. Il fatto contestato risale al 2020. L'uomo era accusato di aver occupato un alloggio popolare al villaggio Santa Barbara ed era stato diffidato a lasciare l'immobile. Insieme al suo legale, l'avvocato Massimiliano Bellini, nel corso del processo, ha dimostrato che l'alloggio era dei genitori, ai quali era stato assegnato legittimamente e con i quali coabitava. L'uomo si era preso cura di loro per parecchi anni fino a quando, data l'anzianetà, sono deceduti. Da allora il sessantenne era rimasto ad abitare in quell'abitazione continuando a pagare il canone di locazione. Il pubblico ministero aveva chiesto la pena di otto mesi di reclusione e 300 euro di multa, ma il giudice ha riconosciuto l'innocenza dell'imputato che è stato assolto appunto perché il fatto non sussiste.